Ciao ragazzi, io sono Nikodin e sono ritornato con un nuovo video, nuova sfida, FUT13 Mi raccomando ragazzi, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e vamanos Ci mancano solamente 3 iscritti per arrivare ai 300, quindi mi raccomando ragazzi, fate voi Questa sfida costa un po', ve lo sto dicendo già dall'inizio Perché i giocatori costano, come avete visto, 3.000 e 5.000, già se sono andati con due giocatori, 8.000 crediti Mi è costata, se non mi sbaglio, 23.000 crediti per fare questa sfida così come l'ho fatta io Voi se la volete fare diversamente ragazzi, la potete fare diversamente Io vi sto mostrando una soluzione per fare questa sfida Non riusciamo ad aprire il pacchetto perché ho dei giocatori Ho dei giocatori che ancora li devo vendere al negozio Che non c'è più spazio nella lista di trasferimenti Quindi questa è la mia proposta per la sfida di oggi Andiamo a ritirare il pacchetto Io vi ringrazio tantissimo ragazzi per aver guardato anche questo video E ci vediamo con un prossimo Ciao, ciao